Ciao Danilo, buongiorno. Sono passati tre anni da quando abbiamo fatto il corso insieme e ti avevo promesso che ti facevo una recensione, ma poi non l'ho fatto subito. Ci ho messo un po' di tempo, però ne approfitto per raccontarti tutte le cose straordinarie che mi sono successe dopo aver lavorato con te e aver continuato a lavorare su me stessa. Mi sono sposata con un uomo meraviglioso, al di là delle mie aspettative e molto molto di più. Sono molto contenta e da poco ho lasciato il lavoro sicuro che avevo perché non mi appagava più e volevo inseguire un sogno, quello del coaching, te l'avevo detto e quindi sto iniziando a fare coaching e mi sto trasferendo in Slovenia, quindi vado a vivere all'estero con mio marito dove inizieremo la nostra vita lì, facendo quello che mi piace. Ho rivoluzionato la mia vita, tu hai sempre detto punta la luna male che va arrivare alle stelle e io sto facendo questo. Quindi ti posso assicurare che il lavoro fatto tre anni fa sta continuando a dare i suoi frutti perché ogni tanto mi vado a rivedere gli appunti e ti seguo. Quindi ti volevo ringraziare anche se lo sto facendo dopo tanto tempo. Il ringraziamento è ancora più grande perché ho visto quali cose meravigliose possono succedere a distanza di tempo dopo aver lavorato su di te. Io ti abbraccio e ti auguro una buona giornata. Ciao!